e piano piano magari con la costruzione di un buon bankroll a facciarsi al gioco live in maniera magari inizialmente anche fra amici a casa incominciare a prendere confidenza col gioco dal vivo e piano piano vedere un po' come va e crescere senza avere mai troppa fretta e soprattutto ragazzi senza mai mettere a repentaglio quella che è la vostra vita i vostri soldi, tante belle cose che non devono essere rovinate per colpa magari di un colpo di testa infatti è visto anche come un pericolo poi da chi magari non conosce bene questa disciplina un altro pericolo un po' più come dire individuale ma verificabile e presente in tanti giocatori è quello della difficoltà di poter convivere con una passione di questo tipo con la propria dolce metà è difficile trovare fidanzate, innamorate, amanti, mettetela come volete che accettino di buon grado il fatto che uno abbia una passione come per il poker che oltre a essere magari poco conosciuta porta via tanto tempo perché poi rischia di diventare davvero una passione oltre limite come magari non tante discipline hanno ma guarda io quello che posso dire è questo c'era un poeta sardo da poco io avevo letto queste sue righe lui era un giocatore d'azzardo pesante non dell'holdem ovviamente parliamo di 30 anni fa che diceva per quanto un giocatore possa perdere i soldi possano portargli via casa, macchine e tutto quanto a casa ha sempre una donna che lo ama quindi io secondo me io quello che posso dire è che comunque il giocatore di poker in sé nasconde diciamo delle abilità anche sotto un profilo sentimentale umano quindi comunque è una persona di solito affascinante all'incirca, non tutti però no è comunque i giocatori di poker che perlomeno ho conosciuto io avevano nonostante magari non caratteristiche fisiche particolari donne bellissime senza avere neanche poi magari c'è lato economico magari anche a terra quindi io dico questo dico che alla fine un buon professionista sa disciplinarsi e quindi magari non ha problemi di sicuro guarda io sono un disastro quindi te lo dico sinceramente io quando ho iniziato a giocare praticamente ho chiuso ho avuto un po' di ambaradan a destra e a sinistra però cosa vuoi che ti dica? io crederevo in questa cosa lo vedevo come un mio futuro tuttora lo vedo come un mio futuro e dovevo arrivare dritto al risultato ho fatto mi sembra in due anni e mezzo quattro primi posti in tornei all'incirca tre medie poi chiaramente la vincita del campionato italiano a febbraio altri tanti sei sette indemoni sono andato a premio sempre in tornei dove la media dei giocatori è quella che oggi si trova esattamente in questo torneo sono cresciuto dal basso sono arrivato a livelli alti ho sudato, ho viaggiato un po' in tutto il mondo io sono stato in tantissimi posti Las Vegas, in Egitto, in Inghilterra in Spagna, in Germania sempre per giocare qual è il più bello che hai visto? dove hai giocato? è di sicuro il Venetian di Las Vegas è il casino più bello del mondo poi gli Stati Uniti d'America secondo me comunque sanno fare di questo gioco un vero spettacolo e quindi anche le location sono stellari si gioca al Venetian sembra di essere a Venezia però chiaramente americanizzata se ti dovessi chiedere se ti ricordi con più facilità la tua più bella mano quella che racconti con più facilità o la tua sconfitta la tua mano peggiore ti viene più facile raccontarmi la vittoria o una bad beat? onestamente mi viene più facile raccontarti una bella mano più che una brutta mano e allora qual è stata? ce n'è una in particolare che ricordi con piacere? sì, è stata quella con cui ho vinto il campionato italiano non ti dico la verità e se ci ripenso è stata una mano particolare anche perché in questo gioco diciamo in fase finale di torneo rimasti nell'heats up è difficile che si vinca uncontested significa senza che il tuo avversario cioè riuscire a far mettere al tuo avversario tutte le sue fish le sue chip nonostante sia in una situazione dove non ha alcuna possibilità di vittoria quindi praticamente che cosa ho fatto? io sono riuscito a convincere il mio avversario di una cosa totalmente diversa da quella che era la realtà hai dato anche qualche tel qualche controtel diciamo che il mio avversario mi permetteva di fare delle scelte particolari quindi se avessi giocato quella stessa mano contro Luca Pagano o Dario Minieri onestamente l'avrei giocato in maniera completamente diversa io ho avuto nonostante sia andato poi in escandescenza per certe mani quello è il mio carattere c'è poco da fare comunque avevo rispetto del mio avversario il mio avversario comunque era anche un giocatore al tempo un po' alle prime armi ho usato tutto quello che era diciamo il mio bagaglio d'esperienza contro quella tipologia di giocatore affinché arrivasse il vero risultato anche perché mi sarei sparato se fosse uscito secondo va bene allora infine ringraziamo Filippo di essere stato con noi infine due battute proprio sul tuo prossimo futuro cosa ti aspetta dove andrai sarai a Barcellona poi forse a Luona non so dove ti vedremo giocare in un immediato futuro di sicuro mi vedrete giocare su pokerstars.it sotto il nick F Candio per quanto riguarda i live io ho intenzione comunque di giocare numerose tappe dello European Poker Tour sempre targato Poker Stars e poi ovviamente campionati Italian Poker Tour ormai internazionalissimi abbiamo visto speriamo che finalmente si confermi questo tavolo finale abbiamo praticamente sette giocatori italiani considerando anche Suissi uno di loro speriamo che ci possa essere un podio tutto tricolore anche se il chip leader purtroppo è l'unico straniero sì però i giocatori che sono a questo tavolo finale sono davvero forti gli italiani cioè parliamo comunque di uno che secondo me se vogliamo considerare Claudio Rinaldi comunque italiano uno tra i migliori giocatori addirittura europei abbiamo Tamprog Niccolò Domeniconi che proprio per io tifo tantissimo per lui anche perché è un grandissimo giocatore italiano per ai più sconosciuto oggi però non nell'ambiente dove lui ormai era già comunque uno un professionista serio l'ha fermato quindi tifiamo comunque sempre per gli italiani speriamo comunque di sicuro che ci sia un bel poker che sia un poker onesto un poker divertente per il pubblico e per tutti e speriamo di vederti a un final table anche del tour europeo ringraziamo Filippo per essere stati con noi e ci rimandiamo al prossimo giocatore ciao